Un po' il leitmotiv di questa partita è il Benevento che sembra non essere sceso in campo, specie nel secondo tempo, subire quattro gol in una sola partita fa male, per fortuna però mercoledì si ritorna in campo. Sì, oggi diciamo che non è andata proprio come volevamo. È chiaro che bisogna analizzare bene quello che abbiamo commesso oggi, però purtroppo questa è la Serie B e non puoi mollare niente, soprattutto sotto punti di vista anche della mentalità. Quando hai questi cali rischi sempre. Oggi non è andata bene niente, dispiace perché comunque 4-0 è un risultato pesante, anche se oggi abbiamo avuto qualche occasione per fare gol, però ripeto, dai, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di andare avanti. Mercoledì abbiamo una partita per noi importantissima e bisogna continuare su questa strada. Sonia, Cristian vi ascolta. Sì, allora, sicuramente una brutta sconfitta. La chiave di lettura di Caldirola, del tuo compagno, è stata un po' quella non eravamo abituati a rincorrere. Può anche un po' in un certo qual modo giustificare il pesante risultato. Insomma, perdere ci può stare 4-0 e troppo. Forse è un benevento che ad un certo punto non riusciva ad accettare questa sconfitta, si è sbilanciato troppo, ha aperto troppi equilibri e ha concesso continuamente il fianco agli avversari. Sì, può essere. Quest'anno fortunatamente, insomma, sono successe poche volte che dovevamo rincorrere una partita. Però, diciamo che soprattutto gli ultimi, il terzo e il quarto gol, sono stati errori nostri. Come dicevi te, magari per troppa frenesia, perché magari volevamo aguantare la partita. Anche se avevamo avuto qualche occasione per fare gol, però, ripeto, non è successo. Bisogna guardare avanti. Già da domani mattina cercheremo di capire bene quello che non è andato, in tranquillità, perché alla fine dei conti siamo ancora primi in classifica e quindi dobbiamo arrivare alla prossima partita, sì, con la cattiveria giusta, perché quattro gol sono pesanti, fanno male, però con la mentalità giusta. Billy. Ciao Cristian. Secondo te, da una prima analisi da quello che tu hai visto dal campo, hanno pesato più gli errori individuali oppure è stato un problema di approccio mentale alla partita? Perché oggi non si è visto da un boldista mentale il solito benevento. Guarda, io metto un po' tutto insieme. È chiaro che quando non c'è l'atteggiamento giusto, a fronte della partita non hanno convinto e quindi non ti vengono i passaggi, non ti vengono le giocate. È stato tutto lì, bisogna entrare fin dai primi minuti con la cattiveria giusta, con la mentalità giusta, altrimenti rischi di fare brutte figure. Non dico che oggi abbiamo fatto brutte figure, però è chiaro, il risultato è pesante, non dobbiamo nascondirci su questo. Bisogna analizzare bene perché e come mai abbiamo preso questi gol. Però, ripeto, alla fine dei conti è l'atteggiamento in cui inizia una partita e a fronte della partita. Mercoledì arriva la Cremonese, no? Qual è l'errore che adesso il Benevento non deve fare? No, nessun errore. Per me abbiamo la fortuna di giocare contro una grande squadra come la Cremonese e quindi dobbiamo trovare gli stimoli giusti. Sicuramente non mancheranno perché abbiamo visto oggi che comunque è stata una brutta sconfitta e bisogna ripartire con la testa giusta e soprattutto con la testa alta. Dobbiamo affrontare la Cremonese come abbiamo sempre affrontato le altre partite, con la voglia giusta, con l'atteggiamento giusto soprattutto. E poi, ripeto, partite come oggi ci sta nell'arco del campionato, però io penso che mercoledì riusciremo a fare una grande partita perché affronteremo una grande squadra, però saremo pronti.